bello a tutti fourniters benvenuti su leontube eccoci in questo video per andare a fare gli incarichi della settimana prove di questa settimana riscatta due punti di cattura in una singola partita ok dobbiamo riscattare due tra tutti questi punti di cattura qua nella stessa partita quindi dobbiamo fare attenzione ovviamente che non ci siano avversari in questo momento io sono spoglio c'è senza armi eccolo per l'appunto mi stanno sparando vediamo che ok ok il primo l'abbiamo fatto siamo andato a benino così abbiamo siamo riusciti anche ad armarci e ora andiamo al secondo siamo a piazza incudine proviamo andare qui alla cittadella va fatto tutto nella stessa partita ok la a 300 400 metri intanto ci vediamo lì al punto allora eccolo qua il secondo siamo qui alla cittadella sempre occhio occhio agli avversari dobbiamo aspettare aspettare che arrivi su ok eccolo qua li abbiamo conquistati entrambi quindi ne abbiamo conquistati due potete farlo a caso tra tutti a caso tra tutti quelli della mappa se vi deve stato un minimo d'aiuto ragazzi un bel mi piace condividetelo con i vostri amici nei vostri social non dimenticate di lasciare un commento e come sempre se vi va mi invitiamo a iscrivervi al nostro canale ciao a tutti